È un brano musicale composto da John Bytes, la musica di Moricone, e un omaggio a due anarchici italiani, un pescivendolo e un calzolaio, che nel 1920 sono andati a morte per un uccidio al quale erano completamente estranei. Allora, vi leggo le ultime, il testo è molto breve, sono quattro versi, dice, ecco siamo qui per voi Nicola e Bartolomeo, voi resterete per sempre nei nostri cuori, quindi il vostro momento finale, cioè la vostra agonia, è il vostro trionfo. Questi brevi versi sono ispirati al discorso che Bartolomeo Vanzetti fece prima dell'esecuzione che avvenne dopo sette anni dall'Atrunidale, nel 1927, e questo è il suo discorso. Se non fosse stato per queste cose, io avrei vissuto la mia vita là fuori, parlando agli angoli delle strade con degli uomini disprezzati. Io sarei morto, trascurato, sconosciuto, un fallimento. Ora noi non siamo un fallimento. Questa è la nostra carriera e il nostro trionfo. Mai nella nostra intera vita avremmo potuto sperare di compiere un tale lavoro in favore della tolleranza, della giustizia, della comprensione che un uomo ha per un altro uomo, come noi ora facciamo per caso. Le nostre parole, le nostre vite, le nostre pene non hanno fatto niente. La presa delle nostre vite, vite di un buon calzolaio e di un povero pescivendolo, ha fatto tutto. Questo ultimo momento appartiene a noi. Questa agonia è il nostro trionfo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo tipo di manifestazione. Condividiamo la versione che ci sono piaciuti anche come contenuto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.